Come ho già detto agli giornalisti che mi hanno chiamato, molto contento e un po' emozionato di venire a lavorare in una piazza così importante, così calda come Parsonale e come San Benedetto. Prima cosa devo ringraziare la famiglia Pedeli che mi ha dato questa opportunità, cercherò di sfruttare al massimo per cercare di portare il più in alto possibile la San Benedetto. Chiaramente so che l'eredità è importante, è pesante perché vado a sostituire, vado a un allenatore che ha vinto tanto qua e so quindi quanto la piazza si è affezionata. C'è un solco già a scia vincente che cercherò chiaramente di percorrere ancora.